Piani telefonici tariffari, Expo e il Cibo Europa e Welfare, ma anche il temuto tacito, pedagogia del lavoro e obesità. Questi alcuni dei contenuti delle tracce proposte ai maturandi che sono tornati sui banchi per la seconda prova dopo lo scritto d'italiano. Che scuola frequentate? Liceo scientifico. Quindi funzioni? Sì, 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 è stata dura, però dai, speriamo sia andata bene. Anche tu hai consegnato prima del tempo, che scuola frequenti? Il linguistico di Fano. E quindi inglese, e come è andata la prova? Penso abbastanza bene, però insomma un po' così. Invece i tuoi compagni che cosa hanno raccontato? Anche loro l'hanno un po' tirata su, insomma. Questo weekend che cosa farai? Questo weekend ancora niente, quello dopo, dopo l'orale, festeggio. Come è andato oggi il compito? È stato molto difficile? Diciamo che non era facile. E soprattutto il secondo problema, quello su cui mi sono concentrato, però i quesiti si facevano e tutto sommato è andata abbastanza bene. Sei appena uscita, hai avuto modo di confrontarti con i tuoi compagni? Sì, e più o meno quasi tutti abbiamo scelto il tema di attualità. Com'è andata? Eh, normale, speriamo bene. Non mi esprimo, non lo so. Ed ora lo studio per il quizone di lunedì? Eh sì, lì ci saranno veramente dei seri problemi. Per la prova, la terza prova, il quizone, siete preoccupati oppure ormai quello che avete studiato, insomma? No, affatto, ormai il peggio è passato dopo della seconda prova, secondo me. I ragionieri maturandi hanno affrontato la prova di economia aziendale che ha compreso domande sul conto economico e lo stato patrimoniale. I quesiti sono partiti da una relazione sulla gestione di società che opera nel settore industriale. Conto economico e stato patrimoniale, difficili o fattibili? Fattibili. Fattibile questa volta, dai. Rispetto agli esercizi che abbiamo fatto sembrava anche un po' più semplice. Qualcuno è stato scoperto con dei bigliettini in mano? No, nessuno. Nessuno? Nessuno, tutto a posto. I tuoi compagni che cosa dicono? Anche loro sono riusciti, meno male, a finirlo? Meno male sì, almeno da quelli che ho sentito sembra di sì. E più o meno tutti siamo sul parere che è rimasto un po' più semplice a tutti. Bene, bocca al lupo per lunedì. Credo. Insomma, riuscirai a finire questa scuola dopo i sette anni? Sì, sì, dai, se la possiamo fare, se la possiamo fare. Quindi ti impegnerai, immagino, anche nei prossimi giorni per studiare pienamente per lunedì, ma anche per la prova orale? Per forza, per forza. Ce la metti tu? Ormai sono arrivato qui e tocca che ce la metto tutta. Perfetto. A voi ragazzi invece? Sì, ho finito alle due e mezza. Cioè, un compito d'economia difficilissimo e la prima volta che vedevo questa cosa, se vuol vedere, guardate, sono tre pagine di roba. Cioè, devo dire che mi è andata bene la prima parte, dopo la seconda parte dove bisogna scegliere su quattro punti, due punti, ho scelto solo uno e speriamo che vada bene, dai. Benissimo. I professori vi hanno suggerito? I professori hanno dato una mano, diciamo, hanno dato una grossa mano, sì, sì. Stressati fino alla morte, stressati fino all'ultimo, dai, 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 qualcosa hanno detto, dai. Al classico il Ministero ha scelto Tacito per la versione di latino con un brano tratto dagli ultimi giorni di Tiberio. Allo scientifico è uscito lo studio di funzioni e uno dei due problemi sul piano, tariffario di un operatore telefonico per chiamate all'estero. Un pezzo dedicato al cibo è invece proposto ai candidati del linguistico, quindi anche Expo entra fra le tracce della seconda prova. Per lunedì che cosa ti aspetta? La morte, sì, sono queste cinque materie in tre ore e noi dobbiamo prepararci le pratiche, io devo prepararmi le praticamente quasi tutte. Infatti adesso vado a studiare, però speriamo bene, lì secondo me è più facile però della seconda prova di matematica. Sarà un fine settimana molto intenso? Molto intenso, però l'ultima volta che aprirò queste materie è in vita mia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.